Il successo ottenuto fu tale con l'ultimo orgoglio non si perdebbe occasione di mostrare il museo nel più solo nei momenti di ufficialità, che anche in seguito si continuò a trasferire nella fabbrica vasariana via via sottraendola alle residenze private e alla guardaroba granducana. Si ha opere singole di particolare rilievo, si ha intere categorie di oggetti con la conseguente necessità di spazi sempre più estesi. Tra la fine del Cinquecento e nel corso del secolo successivo, per esempio, trovo posto nel cosiddetto terrazzo delle carte geografiche attuale sala 16 e nello anzino delle matematiche, sala 17, un'importante raccolta di strumenti scientifici, alcuni dei quali appartenuti a Galileo Galilei, mentre nelle stanze destra della tribuna, sala 19 e 22. Ben esposta la prestigiosa collezione, purtroppo venduta nel XVIII secolo o addirittura distrutta per ricavare i metalli preziosi, delle armi da guerra e da torneo. Si era il giorno di credere che anche i tali ambienti fossero stati predisposti con cura museografica, se ancora oggi si possono identificare dalle decorazioni originali dei soffitti che si riferiscono, nel primo caso, alle scoperte dei grandi scienziati dell'antichità, da Tolomea ad Archimede, negli altri ad allegorie e ad episodi goreschi, oppure a scioglie di giostra e torneo. Secoli di collezionismo medicio Per tutta la durata della dinastia, la passione collezionistica dei medici continua a produrre frutti cospitui, buona parte dei quali approdavano prima o poi agli uffizi. E' il caso di ricordare i contributi di Ferdinando I, 1549-1609, accanito acquirente sia di scultura classica che di pittura contemporanea. Di Cosmo II, 1590-1621, cui si devono buona parte dei dipinti caravaggeschi oggi presenti del museo. Di Ferdinando II, 1610-70, al quale giunse l'energità attraverso l'amore e vittoria della Rovere, anche le collezioni urbinati, celebre per i capolavori di Piero della Francesca, di Raffaele e di Tiziano. Del Cardinale Leopoldo, 1617-75, fratello di Ferdinando di Casimo III, collezionista di grande intelligenza e culturale, tra l'altro, di filone specialistici. Suzie. Ho sempre tuttopicchio, da più spravo il pubblico dalla